Musica Bentornati al consueto appuntamento con il meteo. Infiltrazioni d'aria fresca e instabile in quota andranno a disturbare l'azione stabilizzante dell'anticiclone. Di conseguenza nella giornata in condizioni di cielo generalmente sereno, poco nuvoloso su tutto il territorio, nel corso delle ore centrali della giornata si assisterà ad un aumento della nuvolosità nelle zone interne a ridosso dei rilievi più alti con qualche rovescio, qualche temporale. Fenomeni che poi andranno dissolvendosi nel corso delle ore serali. La temperatura è prevista generalmente stazionaria con venti deboli, variabili o tutto al più a regime di brezza e mare poco mosso. Arrivederci. Grazie. Grazie.